Tra poco il notiziario di E-TV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Locatop da 25 anni risolve tutte le tue necessità di cantiere. La soluzione per un noleggio su misura. Consulenze sopra luoghi gratuiti, assistenza tecnica, consegna direttamente in cantiere. Oltre 1600 mezzi delle migliori marche per il sollevamento. Siamo in Emilia-Romagna e Lombardia con la nuova sede di Milano. Locatop, un noleggio informato, sicuro e sereno. www.locatop.it Buongiorno e benvenuti a ETG. Affittava ai turisti di una dozzina di appartamenti di lusso e di proprietà dei suoi genitori in una delle strade più caratteristiche del centro di Bologna. Per anni però non ha pagato le imposte né la tassa di soggiorno. L'imprenditore è un 35enne bolognese, è stato smascherato dalla Guardia di Finanza. Vediamo allora il primo dei nostri servizi di Federico Balletti. Per anni ha affittato completamente in nero 12 appartamenti nel pieno centro di Bologna, in via Saragozza, pubblicizzandoli sui social e sulle principali piattaforme di prenotazione online. Oltre a evadere quasi 2 milioni di euro di tasse, non ha mai pagato al comune l'imposta di soggiorno e non ha mai comunicato alla questura le presenze degli ospiti. Sono le violazioni scoperte dalla Guardia di Finanza che ha denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato all'Agenzia delle Entrate un 35enne bolognese finora incensurato. Quasi tutti gli appartamenti si trovano in un immobile di pregio in via Saragozza, una delle strade più caratteristiche del centro storico, e risultano di proprietà dei genitori dello stesso 35enne. Gli alloggi, spiegano gli investigatori, erano modernamente arredati con servizi esclusivi, fra i quali il welcome kit, il drink di benvenuto, e forniti di un servizio di reception e sicurezza 24 ore su 24. Nel periodo preso in esame dalle fiamme gialle dal 2016 al 2023, l'uomo avrebbe evaso una cifra quantificata in 1.816.000 euro. È stato smascherato grazie a una serie di controlli incrociati fra le banche dati a disposizione dai finanzieri e gli annunci online pubblicati sulle piattaforme. L'attività non è stata sospesa, ma l'imprenditore si è visto costretto a mettersi in regola. Oltre alla denuncia per le violazioni fiscali e per non aver comunicato alla Questura i dati degli ospiti, l'uomo è stato anche segnalato al Comune di Bologna che potrebbe chiedere il pagamento degli importi mai versati dell'imposta di soggiorno prevista per le locazioni turistiche. Sull'operazione della finanza è intervenuta la vice sindaca di Bologna, Emily Clancy, innanzitutto per fare i complimenti agli stessi finanzieri e all'Agenzia delle Entrate per aver smascherato questo evasore. Ma secondo Clancy questi controlli devono accompagnarsi a una regolamentazione degli affitti brevi turistici e a un'armonizzazione di questa fattispecie col mercato della locazione ordinaria in grande sofferenza nelle maggiori città italiane. Di questo, spiega la vice sindaca, abbiamo discusso a livello nazionale con altre città metropolitane e altri comuni, presentando al Governo un elenco di proposte in merito. Queste proposte però giacciono nei cassetti dell'esecutivo. Restiamo alla cronaca. Ha esploso un colpo di pistola all'indirizzo del cliente della fidanzata. Un uomo di 43 anni è stato denunciato dai carabinieri di Bologna. L'episodio è avvenuto nella zona bolognina. Vediamo. Ha pagato una prestazione sessuale che non ha mai consumato e quando ha reclamato il dovuto si è visto puntare e successivamente esplodere contro un colpo di pistola. L'episodio è accaduto in un palazzo condominiale in zona bolognina e a chiamare i carabinieri del nucleo radiomobile è stata la stessa vittima. L'uomo, un trentenne straniero, ha raccontato di essersi recato a casa di una ragazza maggiorenne e di aver pagato 100 euro per una prestazione sessuale. Presi i soldi, la donna ha cacciato via il trentenne. Lo stesso però è tornato indietro per riavere il denaro ma una volta entrato nell'appartamento si è trovato di fronte al fidanzato della ragazza, un 43enne, che infastidito della situazione ha preso una pistola, risultata poi essere una scacciacani. La puntata contro il trentenne è esploso un colpo. Arrivati i carabinieri sul posto hanno denunciato l'uomo per minaccia aggravata e sequestrato l'arma. Sempre i carabinieri, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 55enne residente in città per coltivazione di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno trovato una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, all'interno della quale c'erano 13 piante di cannabis di varie grandezze. Nell'appartamento hanno trovato anche altri oggetti relativi alla coltivazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Infine a Imola i carabinieri dell'ispettorato del lavoro, nel corso dei controlli nel settore agricolo, hanno denunciato il titolare di un'azienda per irregolarità e gli hanno elevato sanzioni complessive di oltre 25 mila euro. Un veicolo con targa contraffatta e poi un sequestro di quasi duetti di eroina in un parco. Due interventi eseguiti a Bologna dagli agenti della polizia locale di Bologna che però sostengono i sindacati UIL, FPL e SULPL, sono stati ignorati e non comunicati dal comune di Bologna. C'è un piccolo giallo insomma. La sicurezza, affermano i rappresentanti degli agenti, è la cenerentola dei problemi della città. Vediamo il servizio di Sara Ferrari. Un veicolo con targa contraffatta scoperto nel quartiere Porto Saragozza con conseguente denuncia dell'automobilista e il rinvenimento, anche grazie al fondamentale aiuto del fiuto del cane Ares dell'Unità Cinofila, di quasi duetti di eroina in un parco a Navile. Due interventi eseguiti dagli agenti della polizia locale di Bologna nei giorni scorsi e che i sindacati SULPL e UIL, FPL, in una nota, sottolineano come siano stati ignorati dal comune, che affermano non ne ha dato risalto. Due notizie che non sono state diffuse alla stampa e ai cittadini. Un silenzio lo definiscono i sindacati che rappresentano gli agenti, che non giova al clima che il personale vive ogni giorno. Quando una amministrazione comunica di offrire sicurezza ai cittadini spiegano nel comunicato, nonostante il numero limitato di agenti, dovrebbe farlo sottolineando il lavoro svolto, come i due casi citati. Il silenzio non aiuta chi è sul campo tutti i giorni con difficoltà come la mancanza di personale, mezzi operativi obsoleti e la totale mancanza di programmazione nell'ammodernarli o sostituirli. I rinvioperenne, aggiungono ancora SULPL e UIL FPL, della discussione sull'eventuale uso delle bodycam. Considerare la sicurezza la cenerentola dei problemi di questa città è un'operazione miope che comporta da tempo e quale conseguenza danni agli stessi cittadini. Il rifiuto di un confronto con le sigle sindacali, sui problemi esposti dai sindacati, porterà a inasprire il confronto. Non ho ancora firmato per il referendum della CGL sul Jobs Act. Nei prossimi giorni dirò che cosa penso, lo ha detto questa mattina il sindaco Matteo Lepore, che ha parlato anche della situazione delle scuole Besta e anche dell'aggressione a sfondo omofobo nei confronti di un 29enne da parte di un gruppo di minorenni, di cui abbiamo dato conto nei telegiornali di ETV nei giorni scorsi. Ma vediamo questa intervista al sindaco del nostro Giuseppe Piloni. Jobs Act ha firmato? Non ho ancora firmato, ma sicuramente nei prossimi giorni stiamo concordando con anche la CGL che cosa fare e in quell'occasione dirò cosa penso di questo. Se vuole Besta è finita la tregua? Io penso che la vice sindaca Emilia Clensi abbia giustamente detto che è importante continuare a vedersi, ci sono ancora due incontri fissati, ci hanno chiesto una documentazione per entrare nel merito, noi questa documentazione gliel'abbiamo fornita, così come anche il supporto dei tecnici dell'amministrazione, siamo pronti a confrontarci e io penso però che sia anche arrivato il momento nel quale il comitato Besta debba aprirsi per un confronto nel merito, quindi se non ci si vede, non si entra nel merito del dettaglio del progetto, questo diventa un po' un dialogo tra sordi, invece io auspico che questo sia possibile ancora. È stata un'aggressione a un 29enne a sfondo omofobo da parte dei minorenni preoccupato da questi fenomeni? Dobbiamo tenere assolutamente la soglia di attenzione alta, in una città come Bologna c'è su questo molta attenzione, ma dobbiamo fare di più, serve a livello nazionale una legge contro l'omotransfobia, questi episodi non sono isolati perché fanno parte di una catena anche di odio e di discriminazione che purtroppo quando avviene anche da parte di giovanissimi ci deve far riflettere su quanto gli adulti devono ancora fare di più nel trasmettere alle nuove generazioni un'idea diversa della nostra società, una società che non deve essere violenta ma inclusiva e rispettosa. Il rispetto credo sia una cosa che quando vado nelle scuole è uno degli argomenti più importanti e più sentiti dai ragazzi, quindi credo che davvero verso questa persona vada la solidarietà dell'amministrazione comunale, la incontreremo insieme alla vice sindaca Amiri Clancy e dobbiamo continuare a tenere la soglia alta e a lavorare per la cultura del rispetto. Durante il Covid aveva perso il lavoro e con la moglie e i figli era finito in mezzo ad una strada perché non riusciva più a pagare l'affitto. Gli è stato assegnato un appartamento a Castelmaggiore che però entro fine anno dovrà lasciare. Il protagonista della vicenda che vi raccontiamo è Andrea Buttini che sentiamo il racconto diretto ai nostri microfoni. Senta, lei si trova in un appartamento che le è stato assegnato in emergenza e che a fine anno dovrà lasciare. Tutto nasce dal fatto che durante il Covid ha perso il lavoro, così? Sì, eravamo due su tre a casa senza lavoro e quindi abbiamo dovuto fare una scelta nonostante la cooperativa che ci affittava l'appartamento avesse un chiaro tipo di programma per cui se uno non pagava neanche una mensilità sarebbe dovuto uscire dall'appartamento come se fosse stato amoroso per una vita. Noi abbiamo sempre cercato di pagare, abbiamo sempre cercato di far fronte a qualsiasi tipo di situazione ma il Covid ci ha messo veramente in ginocchio per cui abbiamo cercato di rientrare dal debito anche d'accordo con questa cooperativa che poi alla fine dopo pochi mesi ci ha denunciato. Abbiamo perso la causa, in due anni siamo stati cacciati fuori dall'appartamento e il Comune di Bologna ha veramente fatto poco e niente se non fosse per alcune persone che si sono interessate hanno presentato delle interpellanze al Comune, al Consiglio Comunale non avremmo avuto neanche un appartamento d'emergenza anche il Governo è stato allertato tramite una lettera di mio padre che poi ci ha richiamato per chiedere come fosse in atto la situazione e stranamente è saltato fuori questo appartamento d'emergenza di 39 metri quadri che ospita appunto tre adulti e un minorenne di 17 anni abbiamo dovuto separare l'appartamento con dei mobili per avere un minimo di intimità ma noi è più di un anno che siamo in questa situazione d'emergenza e non sappiamo come andrà a finire entro la fine di quest'anno perché scade questo contratto per cui ci ritroveremo in mezzo a una strada purtroppo gli affitti di oggi non ci permettono di trovare qualcosa nel privato non sappiamo veramente più che pesci prendere e non può partecipare ai bandi di Bologna? no perché ci hanno trasferito a Castelmaggiore il Comune di Bologna ci ha trasferiti a Castelmaggiore quindi adesso sarebbe un problema del Comune di Castelmaggiore che però purtroppo non ha nessuna disponibilità in questo momento abbiamo già sentito la sindaca e lei ha detto semplicemente che avrebbe parlato con la vice sindaca Clancy per capire visto che lei è la responsabile delle emergenze al momento quindi non sa che fine farà a fine anno? no decisamente no per cui stiamo vivendo una situazione di grande stress e stiamo veramente facendo fatica anche semplicemente a dormire e riposare per riuscire ad andare a lavorare il giorno dopo adesso una notizia che ha rattristato molti bolognesi soprattutto studenti ed ex studenti oltre a chi ha frequentato negli ultimi anni la zona universitaria è morta Tiziana conosciuta come La Controlla aveva 47 anni e ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Formia in provincia di Latina dove da qualche mese era ospite di una struttura religiosa che accoglie persone in difficoltà si chiamava Tiziana Petrolati ma si faceva chiamare Tiziana del Regno usando il cognome della mamma era nota anche come La Poetessa scrivere era infatti una delle sue passioni con sé quando è stata investita da un'auto aveva anche un libro di poesie a dare la notizia della sua morte è stato per primo il parroco della struttura religiosa che la ospitava portiamo nel cuore Tiziana da gennaio l'avevano portata da noi dice il parroco questa notte purtroppo non è tornata cambiamo argomento decisamente passiamo allo sport i tifosi del Bologna fanno già i calcoli per capire quanto manchi alla Champions sognando una prossima stagione in cui i rosso-blu potrebbero non essere i novellini d'Europa ci spiega perché Luca Pinkerle è arrivata l'aritmetica certezza dell'Europa Liga i tifosi già si leccano i baffi in attesa dei calcoli per poter festeggiare la Champions in caso di vittoria contro il Napoli e di una non vittoria della Roma in casa dell'Atalanta il popolo rosso-blu potrebbe già invadere in festa le strade del centro domenica sera la testa si gode il presente ma già si proietta la prossima stagione dove il Bologna si catapulterà con merito tra le big del calcio mondiale novellini d'Europa non ditelo neanche per scherzo nella rosa preparata da Sartori e Divaio quasi tutti hanno già fatto le competizioni UEFA forse in pochi lo ricorderanno ma Skorupski è stato titolare con la Roma in Champions Lukumi col Hank ci ha anche segnato nella fase a Gironi così come Sumauro oggi in parte coi compagni e l'ha assaggiata con Lille Kristiansen con un alto riscatto in ballo ha girato l'Europa col Copenhagen in Champions così come Lico Yannis con l'Olympiakos nel lontano 2012 un bel tuffo nel passato anche per Lorenzo De Silvestri che con Fiorentina e Lazio ha collezionato nove presenze in Champions più recente invece Stefan Posch che l'ha fatta con l'Offenheim solo Conference invece per Beukema ed Europa League con la Roma per Calafiori sembrerà un listone ma i giocatori del Bologna hanno un'ottima esperienza internazionale anche a centrocampo dove Freire ha guidato l'Atalanta per 21 partite infortunandosi ai quarti nella storica sfida col PSG sommando l'esperienza di Moro e quella di Ebischer con gli Young Boys notti europee di Europa League anche per Ela Zuzzi nell'exploat con l'Union San Cilluas e Ferguson in qualche qualificazione in Scozia in attacco c'è una piccola presenza europea anche per Riccardo Orsolini ai tempi dell'Atalanta così come Odgore ha fatto la Conference e Carson all'Europa League con la Z mentre Ndoie ha fatto entrambe le competizioni con Nizza e Basilea Joshua Zirgzera quasi un bambino ma in quel Super Bayern la Champions l'ha vinta nonostante fosse una piccola comparsa più importante invece il contributo di Salma Kers nel Milan un listone infinito per dirvi che Thiago Motta ha già un bel gruppo europeo a disposizione lui il triplete l'ha vinto da giocatore la Champions da allenatore sarebbe una novità ma che bella storia sarebbe farla con il Bologna è tutto il nostro telegiornale si chiude qui grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata eTV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda www.e-tv.it www.e-tv.it